Si è svolto a Postiglione il quarto memorial dedicato al giovane Giuseppe Forlano. Grande appassionato di caccia, per ricordarlo si sono svolte gare di tiro a palla, gara a tiratori, gara di tiro a piattello, gara di tiro ad aria compressa, che hanno visto partecipare grandi e piccini. Sì, ricordiamo questo evento perché per la prematura scomparsa di un ragazzo giovanissimo a cui viene ricordato ed è stato intitolato questo memorial importante. Era un ragazzo che pure giovane si era inserito nella società di Postiglione, figlio di una grande famiglia, diciamo che oggi lo sostengono, vivono insieme questo rapporto. Lui di là, loro di qua, ma è un rapporto che è sempre stato legato. Quindi questo evento e altri eventi sono gli eventi che fanno ricordare un ragazzo giovane, scomparso, ma un ragazzo bravissimo, figlio di una famiglia bravissima. E poi quello che poi si sta sviluppando a questo evento, si sta sviluppando un'economia. Ogni giorno, ogni anno cresce di più, ogni anno c'è qualcosa di diverso. Vincenzo Parisi, cugino di Giuseppe Forlano. Oggi lo ricordiamo in questo evento e infatti le manifestazioni in suo onore continuano ad essere forti proprio qui a Postiglione. Siamo qui a rappresentare l'evento di tira a palla, tira a piattello, aria compressa, eccetera. Però in primis siamo qua per ricordare Giuseppe, per averlo tra di noi, perché infatti lui è stato uno di quelli che... Il primo, che appunto non era un memoria, era una gara dove, come dire, raccogliere tutti noi amici di passione, cacciatori, tiratori, eccetera. Era uno di quelli che... tra i più attivi, diciamo, in questo senso, nell'organizzazione, in tutto. E quindi ora noi siamo qua appunto a ricordarlo, a portare avanti questo evento all'infinito, perché Giuseppe infatti è all'infinito tra noi. E quindi, che dire, aspettiamo una risposta da parte del... come tutti gli anni e infatti già si vede, diciamo, che è arrivata una buona partecipazione del pubblico. Grazie a tutti.